Tombolo, maxifurto di pneumatici nella notte tra mercoledì e giovedì in Contrada Veneto ha svaliggiato il punto vendita e assistenza trigonal gomme. I ladri, dopo aver forzato il portone carraio, sono entrati all'interno rubando circa 200 pneumatici di varie marche per auto e 50 pneumatici per autocarri per un valore complessivo di circa 60.000 euro di bottino. Il titolare ha denunciato il furto ai carabinieri che ora stanno indagando.